Prima il coltello, poi il cappello, al cinema. Ma che vorrà di? Hai fatto un torto a qualcuno? Hai bestemmiato? Hai incontrato una gobba? Tu l'hai comprata, no? L'ho rubato e tu lo sai. La roba rubata ha lo stesso sapore della roba comprata. No! Perché il ladro mi ha minacciato giusto col coltello tuo, se proprio lo vuoi sapere. Sì, sì. La mia esperienza mi dice che la persona del suo persecutore si aggira nella sua vita come un vendicatore. È vero, è vero, uno. Due. Se fosse giusto che uno come me debba essere perseguitato, odiato, invidiato, lo devo riturre in miseria. Nessuno è mai finito in miseria per i furti, scemo. Se poi lo va a ruba per diventare ricco, come tutti. Ma l'immortaggi suo, pure la macchina mi doveva rubare. Ma perché poi proprio la mia? Perché non quella? Non vorrei poter paura, ma loro vivono in questo errore. Spari! Spari! Dell'atto, dentro dell'atto! Ma perché? Perché ancora lei? Ladro. La proprietà, più che un furto, è una malattia. essere o avere. Essere o avere.